La voglia di dipendenza che c'è qua in Veneto, nessuno può fermarla, nessuno può arrestarla. Ormai la gente a Veneto è incazzata. Mi dimostra anche il fatto che qui in piazza non si può più di uno Stato che arresta delle persone che hanno degli ideali e lascia libertà, è libera dei delinquenti. Quando siamo finiti è evidente che dobbiamo mandare un messaggio forte qui da Verona, ma non ci fermeremo. Perché, diciamo chiaramente a Roma, se pensate che oggi si finisca tutto e che domani sia tutto come prima, no, è sbagliato. Quindi sbagliate davvero perché la gente, il Veneto si è svegliato, i Veneti si sono svegliati. Vogliamo che i nostri soldi rimangono qua, vogliamo la nostra indipendenza.